Ciao a tutti ragazzi qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4 Oggi sarà un video brevissimo che voglio fare per voi perché mi è venuta un'idea Dato che tutti voi mi avete chiesto di fare dei live commentary su Battlefield 4 E ovviamente io voglio accontentarvi e quindi ho deciso di iniziare una nuova serie sul canale Una serie che non avrà lo scopo di insegnarvi come faccio di solito dei trucchi, dandovi dei consigli Non saranno commenti delle robe simili, saranno più che altro delle sfide Delle sfide che deciderete voi, nel senso vorrei che ognuno di voi mi lasciassero un commento qui sotto Con scritto cosa vuole che io faccia nella prossima sfida E ovviamente i commenti più popolari, ovviamente vedrò anche qualcosa che sia fattibile Perché se no qua, oh Però i commenti più popolari vinceranno e cercherò di compiere quella sfida Che ne so, fai una partita e in quella partita devi fare una kill streak di tot uccisioni Con tot arma in tot maniera, in questa maniera Ad esempio, usa il Fama solo in colpo singolo e fai una serie uccisioni di 5 in una partita Ora, vabbè, ho sparato un po' a casa, però spero di aver dato l'idea O se no, io gioco con la sensibilità bassissima Potete dirmi, disputa una partita con la sensibilità al massimo col cecchino Cose simili, cose che siano un po' sfiziose anche per me Perché non voglio una sfida facile, ma voglio una sfida che sia divertente Sia da vedere per voi Mi sentirete magari anche ai miei scleri in partita Che per me è da giocare, perché non mi devo comunque annoiare Quindi, detto questo, vi chiedo gentilmente di lasciarmi qui sotto un commento Con scritto la sfida da fare nel prossimo live commentary Con scritto un nome, proponetemi un nome per questa nuova serie Lo farò decidere a voi il nome Purché siano cose decenti e non troppo banali Quindi siate fantasiosi anche con quello se volete E io poi sceglierò per la settimana prossima O quando pubblicherò al prossimo video Una delle sfide proposte da voi Noi ci vediamo al prossimo video Bene ragazzi, ciao